Cari amici e cari amiche, buongiorno, bentornati e bentrovati all'Aulicus Classics Club. Sapete che ormai sono diverse settimane che ci incontriamo e siamo contenti che la musica che scegliamo e che vi presentiamo vi piaccia. Andiamo a sentire oggi il maestro Torossi cosa ci farà sentire e cosa ci racconterà. Venite, seguitemi, andiamo. Parto io e ti racconto di Ottorino Respighi, va bene? E poi tu mi parli. Ma come hai fatto a scegliere questo compositore? Beh, non l'ho scelto io, l'ho scelto nel senso, cioè sono stato indotto a sceglierlo dal fatto che tu hai fatto questo bellissimo disco che io ho ascoltato e ho detto ma guarda un po' questo... E effettivamente ci sono certe cose molto interessanti. Infatti, perché poi Respighi è conosciuto per queste due o tre cose, i pini, le fontane di Roma e basta. E invece no, perché è stato uno studioso. Raccontacelo un po'. Allora, partiamo dall'inizio come sempre. Lui nasce da una famiglia di musicisti, intanto, e questo già aiuta, no? E' già una partenza. Inizia sotto la guida del padre e per poi proseguire con pianoforte, violino e composizione al liceo musicale di Bologna, si diploma a dodici anni. Dodici anni diplomato a conservatorio. Noi giocavamo con le biglie, lui era già diplomato. Dodici anni. Quindi lui che è nato nel 79, 80... 89, nel 92 era già diplomato. Nel 92 era già diplomato a conservatorio. Sì, di Bologna. Ma oggi non ci sono più studenti che si diplomano a dodici anni. Forse ci sono, ma noi non li conosciamo, chissà. Ma è incredibile queste storie. Comunque poi subito dopo il diploma se ne va a Berlino, sempre a dodici anni, tredici, va a Berlino a continuare gli studi. Poi lo troviamo che suona come prima viola nell'orchestra imperiale a Pietroburgo. Pensate. Dove ne approfitta per studiare direzione d'orchestra con Rimsky-Corsakov. Però... Perché avevano pure degli insegnanti. Dei maestri, è chiaro, se lo avessimo noi. Nel 1908 Etelka Gerster, famosa soprano ungherese, lo chiama Berlino come pianista accompagnatore nella sua scuola di danza, di canto anzi. Qui conosce Ferruccio Busoni, altro famoso pianista italiano. Studia composizione con Max Bruch e abbandona la viola che aveva continuato a suonare guadagnando una stima sempre maggiore da parte del pubblico e delle istituzioni per dedicarsi al pianoforte. Quindi era già bravissimo alla viola, adesso si dedica al pianoforte. Finalmente nel 1913 vince la cattedra di alta composizione al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, di cui in seguito diventa direttore. Poco dopo è eletto membro dell'Accademia d'Italia. Dal 1926 lascia tutto per dedicarsi alla composizione e produce i suoi immortali e popolarissimi poemi sinfonici di cui parlavamo prima su Roma che diventano da subito un monumento al suo genio. Perché sono molto belli. Assolutamente. Oltre che autore è profondo studioso della musica antica italiana con pubblicazioni e revisioni di composizioni di Monteverdi, Vivaldi, Marcello e riscritture o arrangiamenti di canto gregoriano e trascrizioni per orchestra di opere monostrumentali antiche e contemporanee. C'è però un problema. Ancora oggi si nota una diffidenza della critica nei confronti di Respighi in quanto gli si attribuisce un'adesione al regime fascista come direttore di conservatorio e accademico d'Italia, dimenticando che all'epoca o si accettava l'appartenenza anche se di facciata al partito oppure si prendeva la via dell'esilio. Lui ha scelto di accettare perché gli interessava la musica, la carriera, l'insegnamento. Ma io infatti ti dirò, dopo queste cose che tu ci hai raccontato, mi sono andato a rinfrescare la memoria di questo album che noi abbiamo fatto abbastanza recentemente e vedo che tra le musiche che lui all'epoca ha scritto oppure ha trovato ci sono queste ari antiche, ari antiche danze che poi lui gli dava dei titoli francesi, infatti questa qui l'ha chiamata Ancien Air et Danse. Ah, ma questo non lo sapevo. Per dargli un tocco di nobilezza. Lui andava a cercare queste cose, le recuperava, le orchestrava. Questo è il frutto del lavoro che ha fatto. Tra l'altro poi questo disco, oltre ad avere queste curiosità importanti musicali di Respighi, è interpretato e seguito da questo pianista che si chiama Vita Antonio Caroli, che è un giovane, maestro. Io quando mi sono andato a vedere un po' di documentazione quando abbiamo fatto questa registrazione, per sapere chi era questo maestro Caroli che non conoscevo, ho letto e mi è bastato il giudizio che il maestro Aldo Ciccolini, che noi tutti è un talento se c'è o non c'è. Dice, ho conosciuto Vita Antonio Caroli durante una delle mie masterclass a Riva del Gard. A distanza di anni posso dire con certezza che la promessa è stata mantenuta. Talento e forza di volontà fanno di questo giovane uno dei pianisti più interessanti che abbiamo per le sue scelte interpretative e il suo impegno. Gli auguro ogni radioso e meritato successo nella sua carriera. Aldo Ciccolini. È una firma importante di fronte a me. Ma è stata anche una profezia. Esatto. Perché Vita Antonio Caroli è veramente un personaggio, una grande preparazione e poi soprattutto io non lo conosco personalmente, mi piacerebbe anzi conoscerlo, ma è veramente uno bravo, serio, si è perfezionato, ha preso, beh tu pensa, ha conseguito un diploma di pianoforte con 10 e lode, musica elettronica, 4 lauree di secondo livello, 3 master di 1500 ore presso il conservatorio Piccini di Bari e l'università di Roma. Quindi voglio dire, ha fatto tutto quanto e praticamente è titolare della carter di pianoforte, ha registrato musiche di Chopin e Schumann, addirittura per la RMN Music di Londra, quindi ha un grandissimo, una grandissima esperienza, però è uno che si è dedicato al recupero dell'interpretazione di grandi autori classici. Perché questo, essendo uno studioso, lui ha profuso le sue energie nel recuperare Beethoven, per esempio, la musica contemporanea per Udi di Rachmaninoff e alle pagine meno esplorate della letteratura. Certo, e questo è importante. I suoi, come dicono, i suoi recital sono sempre ben accolti dalla critica e pubblico. Perché uno, cosa? Quindi complimenti al maestro Caroli, ascoltatevi. Complimenti all'aulico, che l'ha fatto. Complimenti al maestro Caroli, ascoltatevi questo album che si chiama appunto Respighi e dove c'è la piano sonata 016 e poi ci sono appunto questi 6 pièces for piano e poi Ancien Air Dance, opera 114. Buon ascolto e vi ricordiamo, vi ringraziamo naturalmente, come sempre, dalla vostra attenzione. Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi episodi. E vi ricordo anche, cortesemente, metteteci un like che ci serve per fare sempre delle cose migliori. Grazie tante e a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.